Le sentite le motoseghe? Stanno tagliando il Bosco Chianca, siamo ad Altavilla Sentina, al ridosso del Parco del Cilento e qui ci sono già dei manifestanti che hanno messo un manifestino per le loro proteste, ci sono degli operai, siamo domenica mattina 22 ottobre 2023, anche se l'Associazione Nazionale, Gufi e l'Avvocato Barbirotti dei Verdi sostengono che non vi sono documentazioni sufficienti per fare il taglio, comunque l'impresa continua ad andare avanti nel taglio e non ci sembra che nessuno intervenga. Cresce lo scontro ad Altavilla-Silentina tra cittadini, attivisti ambientali e comune. Nelle scorse ore l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cembalo si è arrecata presso la regione Campania con lo scopo di avere quanti più documenti possibili che testimonino la regolarità della decisione. L'ente pubblico ha infatti avviato il disboscamento di un'area montana denominata Chianca, col duplice scopo di tenere pulito il territorio, un qualcosa di doveroso per la prevenzione di incendi e per il dissesto idrogeologico e di fare cassa vendendo la legna derivante. La decisione viene però osteggiata da una folta rappresentanza di popolazione che vede nell'iniziativa all'ennesimo scempio. Tra coloro che alzano la voce c'è Antonio Amorosi che molto si sta battendo per difendere il bosco. Frattempo la popolazione è scesa in presidio in piazza.